Al Romeo Menti è tempo di recupero tra Vicenza e Fiorenzuola, gara rinviata per il maltempo che si era battuto sulla città di Vicenza e sullo stadio e che si gioca questa sera. I biancorossi arrivano alla sfida, forti di nove risultati utili consecutivi, sette dei quali a porta inviolata. Gli ospiti nelle ultime cinque hanno incassato tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. La prima conclusione verso la porta viene scagliata da Della Morte allo scoccare del settimo minuto di gioco. La risposta del Fiorenzuola arriva con Musati che dal limite dell'area fa girare il sinistro. Il match winner della gara contro l'Atalanta sfiora il vantaggio sull'imbucata di Nelly. Nelly che poi si mette in proprio al trentanovesimo. Il suo destro finisce abbondantemente sul fondo. Il Vicenza fatica a organizzarsi, a costruire palle-gole nitide e reclama un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio. Protestano Ferrari e Costa ma per l'arbitro è tutto regolare. Nel secondo tempo Musati perde un pallone sanguinoso. Calcia della morte, palo e schiena di Sorsi sul tapini. Il più lesto di tutti è Franco Ferrari che segna il secondo gol negli ultimi tre giorni, il terzo nelle ultime quattro partite. E l'undicesimo della sua stagione al posto giusto nel momento giusto su un errore di Musati in fase di costruzione. Al cinquantacinquesimo ancora della morte a costruire per Ferrari. Il suo destro è potente ma centrale. Blocca in due tempi Sorsi. La risposta del Fiorenzuola è firmata a Brogni che va via sulla sinistra. Con Fente e poi Costa evitano l'uno a uno. Proprio Costa in buca per Pellegrini. Stavolta è Sorsi a dover mettere le mani su un tiro cross. Ottantanovesimo. Sfonda sempre da sinistra il Fiorenzuola. Iniziativa di Morello. Entrato nella ripresa. Deviazione in corner. Vengono dati quattro minuti di recupero al novantaduesimo. Brogni. Traversone che attraversa tutta l'area. E pesca la testa di D'Amico che sbuca alle spalle di tutti sul secondo palo in pieno extra time. Il Fiorenzuola ciuffa l'uno a uno con la mossa di Tabbiani che paga. D'Amico inserito a gara in corso. Trova il gol del pareggio. Sforbiciata di Proia al novantaquattresimo. Addirittura vicino al due a uno il Vicenza. L'arbitro però dopo cinque minuti di fatto di recupero dice che non c'è più tempo. Uno a uno nel recupero della ventinovesima giornata. Rimane imbattuto il Vicenza. Punto che muove la classifica per il Fiorenzuola. Grazie. Grazie.